La Faggetta di Oriolo Romano, questo bellissimo paese, questo magnifico comune ubicato in provincia di Viterbo, pensate che entra a pieno diritto nel patrimonio UNESCO. La Faggetta, un bosco davvero sublime, epico, straordinario, che porta idealmente chi la va a visitare in un mondo incantato, quello, diciamo così, chiamiamolo utopico di, per esempio, Il Signore degli Anelli, ecco che diventa lo strumento, o meglio il luogo simbolo per eccellenza di quella bellezza, di quel fascino, che la città, o meglio quel comune di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, riesce a dare. Fatto da faggi secolari, da pini, da castagni, una molteplici quantità di funghi, che rappresentano l'uscitale ideale di questa foresta, di questo polmone verde, lontano dall'inquinamento, ma non lontano però anche da quel bellissimo lago, che è il lago di Bracciano. La Faggetta di Oriolo, dunque, appartiene al parco naturale regionale e complesso di Bracciano, martignano, è antichissima, e non ha subito nel corso dei secoli cambiamenti, diversità, sessantata delle Faggetti in 12 paesi riconosciute, come patrimonio mondiale di Unesco, c'è anche questa, la bellissima, nonché sublime, nonché epica, nonché straordinaria, Faggetta di Oriolo Romano, questo comune ubicato in provincia di Viterbo. Congratuazioni al nostro paese, congratuazioni a Oriolo Romano, questo comune ubicato in provincia di Viterbo, perché possiede questa Faggetta stupenda, magnifica, straordinaria. Grazie a tutti, un saluto caro italiano, non ha dubbi, oriamo.